È veramente una grandissima emozione stare qui e naturalmente come diceva il sindaco Sanna dobbiamo essere grati al motoclub di Corleferro e Disegni, a tutti gli organizzatori per averci istituito, dato la possibilità, seppur in questa forma rievocativa, di questa mitica gara, questa mitica gara motociclistica Corleferro e Disegni che è entrata a far parte di quella che è la nostra memoria storica. Ricordo quando ero piccolo, tanti anni fa, quando era una gara ufficiale, una gara nazionale in salita e l'emozione veramente di noi adolescenti era grandissima a vedere tutte queste moto, questa gara e quindi ecco, veramente grati per averci istituito questi momenti di grande emozione. Grazie e buona corsa.